Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sono morto, sono morto. No, ho 74. Dio caro! Dio caro! Cristo Dio! Consegna i volantini, ci dice addirittura. Non ho una idea, ma io li consegno. Ah, porca puttana le api che ti danno fastidio. Ma ti pare che devo avere le api che mi danno fastidio? Allora, un secondo però perché sono anche dei super qua. Quindi, questo ovviamente viene già attaccato. Quell'altro? Quell'altro non sappiamo neanche... Possiamo salvarlo? Non si sa. Vedi, qua ci sono gli abietti che... Così! Mi hanno chiesto come sta Sionet, un po' che non lo sento Sion. Spero che stia bene. Mi spunta Sion. Così di prepotenza. Le dico una cosa Sion. E se ha voglia, ovviamente, se è. Sentiamoci, un attimino, perché per settembre, dal 29 al 9, ho assolutamente bisogno della sua disponibilità. Completa. Capiamo un attimino. Dobbiamo sfornare video giornalieri. Non so che cosa vado a fare, sì. E quindi, ovviamente, se mi servisse... Cioè, mi servirà sicuramente un editor. Magari ti chiamo. Ti prego, ti prego, ti prego, ma perché si bugga? Perché cazzo si bugga? Tei mobility, comunque, sei la roba più buggata che esiste. Sì, ma perché si bugga? Perché... Signori mentality. Partita di merda. Partita di merda. Vamos. Il DMR è sopravvalutato. Il DMR fa cagare. È un'arma imbarazzante che fa schifo al cazzo. Affanculo, va. Non mi chiede mai più di usare il DMR. Beh, bestemmio. Andiamo. Signori. Abbiamo fatto due game. Ma non finiscono le scuole? Ma non finiscono questa settimana. Chissà che siamo ancora vivi? L'ho fatto io. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Adesso, crincolo ancora vivo, piano. Crincoli is alive, crincoli is alive. Non la sento perché non ho sugli auricolari. Un secondo, eh. Costo con possibile proroga al 10 settembre. Oh, che cazzo. Oh, porca puttana! Gesù Cristo di Dio, Gesù Cristo di Dio, Gesù Cristo di Dio. Per favore, non voglio alzare lo sguardo e vedere gente che ride. Raga, raga. Il prima possibile vi mando una bra... Porco cazzo è il cazzo, porco 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 cazzo, avete visto ragazzi sul fiume c'erano due su un tronco picconavano entrambi andavano tipo a 400 all'ora 1 merda con un secondo sottolineatura 13 mesi e sono 13 su sia qualcosa porco di cazzo cristo dio cristo ma ti sembra che possa andare sotto parca di poi ho visto una roba impensabile a che cazzo ora io non sinceramente non so quale sia il problema a posto sistemato easy easy non si sente più no sense capite cioè non 290 corone andiamo andiamo merda tutto bene per adesso andrea è rotto questo pan praga non non serve altro ora sono a un passo da vincere 6.000 patatine porco cazzo buone 6.000 patatine ma non è una cosa così semplice e lo so immagino bisogna riuscire a prendere la top 500 mondiale ok sono top 783 esimo in questo momento l'ho visto e l'ho visto ieri che stava giocando con f con crinkle ho cercato di fare un po di cose ora visto che mister zane non è presente in questo momento mi è stato è stato consigliato di tutto quindi li devo riprovare dieci volte scusa i punti di riferimento cosa sono cr20 eccolo la tutto bene iari lei come sta la ringrazio adrix e sono 13 lol ma i punti di riferimento raga cosa sono la stagione estiva che appunto arriverà brevissimo saluto subito un po di ragazzi che stanno già guardando la live buongiorno rowon skinson er sugo buongiorno anche a mickey roy elvan cr20 buongiorno anche a max j bobo buongiorno i posseidi scorpion christian jasmine good morning andre valen hoodie lama buongiorno andre bielo buongiorno anche a pablo staldin stanno cosmo co tu fettuale vorrei bestemmiare in ogni tempo io vorrei bestemmiare se tu cadi e poi muori credo che lo prendi archi andiamo 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 porco il mio dì stavo dicendo il mio barile dove cazzo eh è qua davanti mi serve mi serve lo slurp ci siamo raga nice ma se io non ho nulla nel merda e tu lo andiamo a push armi che si è il pompa esotica sulle sul park merda io ho due bunker anche ok davanti gente vieni si non ho nulla è 29 37 golden axe e poi stiamo giocando ad alex kid in enchanted castle e siamo fermi in un punto lo finiamo se riusciamo se perdiamo e proviamo batman e robin oggi e adventure of batman e robin di bastante la saluta ci mettono saluto cipi ciao cipi devo bere devo bere devo bere dobbiamo bere devo bere spero se non so dove sia ciao reina is back io io rina is back quattro mesi ciao su e sono quattro o queste rocce mi fanno incastrare e sono quattro non è napoli punto esclamativo e punto esclamativo napoli grazie a tutti